la mia relazione è intitolata o l'anno intitolata castelli ma non solo quindi vuol dire che in alto adige come diceva filippo poco nota dal punto di vista turistico diciamo così culturale si pensa sempre all'alto adige come terra di castelli che è vero però non ha solo castelli ha un'infinita quantità di opere d'arte che vanno dal visto che ci interessiamo di questo momento che vanno dal sesto settimo secolo dopo cristo fino a andare avanti nel tempo come mai che è iniziata lì che vanno dicevo dal sesto settimo secolo fino al periodo di cui abbiamo parlato e cioè il quattordici quindicesimo secolo io vi faccio vedere in sequenza veloce maniera tale che vi venga la voglia di venire con noi poi a visitare perché se continuiamo solo a parlare e poi non si vedono le cose diventa qualcosa che uno si immagina ma poi nella realtà non è così le strade ci parlava al dottor landi delle strade le grandi strade che dal dall'epoca romana e anche prima anno sia in senso nord ove nord sud che est ovest hanno attraversato la nostra terra ecco che saranno anche il veicolo a parte di armati di economia ma anche di pellegrini e quindi anche di situazioni religiosi più o meno stabili benosta san procolo a naturno credo l'avete visto tutti comunque chiese molto umine all'esterno ma che poi all'interno presentano grandi e bellissimi affreschi che ad analizzarli uno per uno ci fanno capire come questa non sia solo terra di passaggio ma sia terra di confluenza anche dal punto di vista di numerosi altri stili e numerosi altri elementi che provengono da fuori il nostro territorio non è un uomo che si dondola lo sapete è uno dei vescovi che sta tentando la fuga però siamo in epoca ancora veramente romanica ancora al bizantino si fa sentire in qualche modo ma con qualche novità però non ci dimentichiamo della terra in cui siamo quindi di quello che ci cade sotto gli occhi ecco allora la grande mandria con le grandi occhioni delle nostre mucche che troviamo ancora oggi nei nostri paesi e che in fila ordinata e con un bellissimi colori decorano un po' tutte le la parete interna san benedetto amalles siamo ancora in venosta una delle grandi strade anche chiamiamole imperiali se possiamo dire così che ha lasciato anche dei sedimenti imperiali la dedica antica a san benedetto e all'interno mille affreschi che ci raccontano non solo della storia religiosa ma anche della storia a quei tempi contemporanei ecco allora il dell'offerente che offre appunto la sua chiesa la sua aureola quadrata perché quando è stato rappresentato era ancora in vita e non era ancora in morte oppure i grandi affreschi legati alle storie di davide questo caso la flagellazione dei filistei e anche il diciamo il san benedetto che parla con le sue colombe e l'abbiamo già visto la grande abbazia a burgusio di montemaria arroccata che conserva uno dei più bei tesori d'arte della nostra terra soprattutto nella cripta e nella cripta ci parlano questi angeli angeli che si vedono poco spesso perché purtroppo bisogna andarci alla mattina presto perché non sono visitabili sempre tutto il giorno bisogna mettersi d'accordo coi monaci e io credo che facciano bene a tenersi gelosamente conservate queste bellissime cose che rischiano grosso in un turismo fatto di massa e basta e non anche di consapevolezza occhi che ci guardano un azzurro intenso e veramente che catturano tutto ma anche la nostra grande arte l'apicida e i capitelli che decorano questa uno dei portali della della abbazia di montemaria e ci riportano anche a una serie di attività artigianali sicuramente importanti per tutta la vallata ma anche nel nei passaggi diciamo così culturali da una regione all'altra ma ritornando un po più in giù andiamo verso merano merano siamo a quarazze a gracci e la grande grande piccola ma grande per gli affreschi anche chiesa dedicata a san pietro quindi una dedica molto antica si visita poco anche questa perché molto spesso è chiusa purtroppo e l'interno ci propone sulla mia destra vedete la grande mandorla di epoca romanica anche questa poi con le sue sovrapposizioni ma poi visto che il 21 andremo a vedere castel da piano la grande cappella legata piena zeppa di affreschi ogni castello come diceva l'architetto codroico poteva anche crearsi la propria chiesa la propria cappella la frescava la ria frescava e spesso usando anche nomi importanti nel corso del tempo e questi bellissimi immagini di un mondo che è passato ma che fa parte della nostra cultura e quando Filippo parla di identità culturale io penso che non si debba pensare io sono italiano io sono tedesco io sono tirolese ma io sono questa terra questa che guarda queste cose che le fa proprie proprie come attraverso gli occhi attraverso l'arte e attraverso quello che i sedimenti di questa arte hanno lasciato dentro di noi ecco qui il la grande storia che trascorre sulle pareti della cappella quella bellissimo freggio quella bellissima cornice che per chi è stato a Ravenna dovrebbe ritrovarsela quasi uguale intatta nel mausoleo dedicato non dedicato di galla placidia la in mosaico qui in pittura ma poi andando sempre nella vallata arriviamo in chiese che sono un po inerpicate ma che si raggiungono anche con delle belle passeggiate e che quindi vale la pena di abbinare l'ambiente alla nostra arte arriviamo a grissiano con questa bellissima chiesa all'interno di nuovo i grandi belli affreschi che ci ricordano sempre il nostro passato romanico in questo caso vedete la storia del sacrificio di isacco come viene raccontata chiaro che abramo sulla sul personaggio insomma iniziale che incentiva quasi il figlio isacco a piedi a prendere il cammino per la montagna e davanti il servo con l'asino pieno delle fascine su cui poi dovrà essere collocato il figlio sembra come una gita sembra come un trascorrere qualcosa insieme noi sappiamo che tutto questo è il sacrificio richiesto da dio in un paesaggio che sembra surreale è fatto di quelle vette di quelle guglie che sicuramente ci ricordano le nostre terre la nostro il nostro mondo oppure poi scendiamo ancora un po più in giù arriviamo a a termeno a castellaz nella chiesa di san jacopo dove ci accolgono questi grandi mostri sono i mostri che ci spaventano che fanno parte di noi che abbiamo dentro che di cui dobbiamo difenderci eccole allora squadernati nella base dell'abside della chiesa e con grande fatica questo telamone tiene su l'abside stessa ma quello che ci proprio ci cattura è il vedere queste mostruosità che si lottano che uno contro l'altro cercano di sopraffarci forse fa parte di tutto il bestiario medievale ma sicuramente fa parte del concetto che l'uomo lotta in ogni momento non solo con nemici esterni ma soprattutto con i nemici interni e solo attraverso una salvezza che forse viene da dalla fede o da altro può anche in qualche modo sconfiggere ecco l'afside nella sua completezza uno dei più bei cicli anche meglio conservati dell'età romanica con il bestiario che sostiene la parte invece più rituale che è quella dedicata agli apostoli oppure vedete san candido abbiamo parlato di tassilone abbiamo parlato insomma di come scorreva anche il mondo attraverso le strade attraverso le investiture le infedazioni ecco che la collegiata di san candido con questa architettura anche ben fatta e particolare ci presenta poi altri grandi bellissimi tesori d'arte come questa cripta che veramente rimane un gioiello anche dal punto di vista architettonico oppure vedete nella cupola della 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 collegiata si squaderna un ciclo legato anche alle storie del vecchio testamento e mi è piaciuto di farvi vedere quando eh dio eh riesce a infondere eh l'aria nella nel insufflare l'alito non solo in Adamo ma anche in Eva e finalmente nasce il mondo che conosciamo noi ma poi è cultura non solo pittorica anche scultorea con questo bellissimo eh crucifisso sempre nella nostra ehm collegiata di san candido oppure andiamo a merano a merano dove troviamo la chiesa di santa maria del conforto ve lo dice l'atrio che è stato aggiunto molto dopo ma la chiesa presenta tutta una serie di affreschi di cui non le andremo a vedere insieme non non occorre solo vederli qua ma pensate nel grande giudizio universale tra i dannati e questa è la rappresentazione di un pezzo di questi dannati noi abbiamo anche una rappresentazione molto vicina al nostro senso artistico chiamiamolo stilistico contemporaneo dove i dannati sono diventati quasi delle maschere delle maschere che ormai stanno eh evaniscendo e non c'entra essere re non c'entra essere vescovi non c'entra essere donne belle o uomini brutti o chierici tutti dobbiamo fare i conti con la dannazione o forse con la beatitudine ma poi abbiamo esempi di chiese diverse i dry kirchen nelle tre chiese eh nella zona di barbiano una incastrata nell'altra dedicata a tre eh santi diversi qui abbiamo la chiesa di santa dedicata a santa geltrude dove si vede bene cosa significa sovrapporre poi opere d'arte nel corso del tempo e anche qui merita una bellissima visita in genere a barbiano la gente ci va per accogliere le castagne forse magari in mezzo alle castagne si può dare un'occhiatina anche a una delle tre chiese o a tutte e tre insieme ma basta stare a Bolzano e siamo immersi in una cultura stupenda come questa della cappella di San Giovanni nella chiesa dei Domenicani qui a Bolzano eh sempre portata ad esempio così degli influssi giotteschi che ormai attraverso Padova erano risaliti anche verso la valle dell'Adige eh i bocce i i grandi diciamo commercianti che qui a Bolzano daranno il via o a una splendida epoca anche d'arte per quello che riguarda le nostre chiese affrescarono questo che doveva essere il loro quasi mausoleo con questi stupendi affreschi di cui tutta la cappella che pur piccola insomma è rivestita alcuni particolari di grande realismo di grande capacità anche illustrativa che ci raccontano ormai di un'arte che è passata dal dal mondo bizantino molto fermo molto ieratico a un mondo che racconta le cose le racconta nei minimi particolari sembra di vedere veramente scuoiare lasciamo perdere che è un uomo lasciamo perdere che San Bartolomeo ma chi sta scoiando sa fare il suo mestiere qualcuno l'avrà visto e qualcuno l'ha dipinto oppure questa bellissima annunciazione dove un angelo bello pieno eh pieno anche di di volume eh racconta a una donna quello che succederà nel suo futuro circondato da sottilissime colonne quasi a indicare la potenza dell'angelo la potenza della madonna e l'esilità tutto sommato di quello che è il mondo architettonico anche dell'uomo oppure questa bellissima ehm fuga verso l'Egitto eh con questo eh San Giuseppe premuroso verso sua moglie premuroso per non stancare premuroso verso questo figlio appena appena nato un po' forse rigido per essere così molto veritiero però questo angelo eh questo asino che incede quasi in maniera regale verso un nuovo destino oppure affrontiamo altri diciamo eh complessi anche affreschi che noi ritroviamo per esempio abbiamo la nella parrocchiale del di Bolzano nel duomo di Bolzano il grande campanile bellissimo di Schussenried che sicuramente è uno dei capolavori anche dell'APC di nostri e i due leoni che tutti non guardano mai neppure Bolzanini sanno dell'esistenza di questi leoni è vero che uno purtroppo è una coppia è vero che sono stati riassemblati dopo la seconda guerra mondiale ma insomma sono sempre opere del nostro romanico spaventano poco ormai ma possono essere guardati bene l'interno con queste volte stupende voi sapete la la anche capacità tecnica architettonica dei eh dei muratori dell'APC di dei dei nostri costruttori per creare volte di questa dimensione di questa natura oppure non parliamo dei chiostri chiostri che in tutto l'alto adige si possono ritrovare questo il chiostro dei franziscaner qui a Bolzano vedete con questi stupendi affreschi che decorano veramente in maniera capillare le grandi volte ribassate oppure altri chiostri altro mondo con guardate con quale accuratezza vengono fatte eh le colonne i trilobi anche delle delle nostre arcate ma non dimentichiamo il grande mondo degli altari a portelli del flughe l'altà che sono veramente una delle basi quasi della nostra cultura locale e i nomi sono tanti sono enormi eh mandiamo dal clocker ma finiamo anche al pacher e eh abbiamo eh meraviglie persino sull'autostrada tra un po' pagano pedaggio e speriamo che lo paghino per andare a Campiglio a vedersi eh la chiesa di San Martino a Campiglio spostata addirittura un scrigno ricco di affreschi affreschi che raccontano raccontano forse le sempre le solite storie ma con una verve una capacità anche narrativa che veramente eh diventa eh quasi illusionismo delle cose oppure se uno va in montagna a camminare perché non si fa un giretto anche sua nuova ponente dove la chiesa di Sant'Ellen è una chiesa antica legata a un sistema di di miniere eh che eh occupavano un po' anche la manodopera fino praticamente al seicento crea questa bella chiesa tra parentesi c'è un'osteria dove si mangia benissimo lì vicino e decora in questa maniera stupenda non restaurata eh l'interno questo è un pezzo della volta del soffitto eh i padri della chiesa che raccontano e ci descrivono poi i loro libri e vedete con quale accuratezza l'intaglio de del trono dello scrigno del lo scanno su cui sono seduti e via dicendo colori vividissimi che sono rimasti tali ma poi abbiamo e io qui voglio finire anche perché stiamo scivolando da quelli che erano il mondo romanico poi il mondo gotico e adesso pian piano arriviamo al 1400 al 1500 con nomi di artisti se prima erano stili adesso si incomincia a parlare più di nomi nomi che eh a Vipiteno hanno creato anche l'occasione per fare un museo Mulcher uno di questi Hans Mulcher forse l'avete anche visto questa bellissima eh adorazione eh che ormai risente di tutti i canoni anche della futura prospettiva e sicuramente non si potrà più fare a meno anche di pensare a come comporre le direttrici di un quadro e fino a arrivare al il nome grosso che la nostra cultura ha prodotto Michael Pacher che attraverso sia le pitture ma anche le sculture qui siamo nell'antica parrocchiale di Griesa a Bolzano ci ha voluto regalare veramente quello che è la sintesi del mondo gotico antico con tutte le novità che il mondo italiano tra virgolette della penisola italiana stava portando avanti nel proprio rinascimento e io vorrei chiudere con questo proprio un autore che è riuscito a interpretare bene questa terra che non è terra ripeto solo di passaggio ma è terra invece di fusione di culture diverse per farne una nuova e forse più ricca per cui cercate di venire con me o con gli altri dove volete per vederle queste cose non si non basta leggerle bisogna guardarle anche e grazie a tutti per avere questa cosa